E' molto stimolante parlare della nuova generazione stilistica, Copertino lo fa sempre con grande piacere, accende i riflettori sulla collezione di Federico Sangalli, un innamorato dell'alta moda che continua nell'atelier di famiglia, anche con una collezione di pret-à-porter che sta veramente riscuotendo successo sia in Italia che all'estero. Quest'anno mi sono ispirata a una donna forte, a una donna che deve pensare al futuro. La mia reazione è stata di stanchezza a tutta la rassegnazione e alla tristezza che regna e quindi ho voluto dare un messaggio molto positivo di forza, di energia, di ritrovato coraggio, di ripensare il futuro. E quindi ho disegnato questa donna sempre elegante, sempre perfetta, però quasi spaziale, quasi cyborg. Federico Sangalli è un grande innamorato della danza, infatti il grande coreografo David Persson ha partecipato come guest star alla sua recente sfilata, ma in precedenza anche grandi niti come Giuseppe Piccone, come Luciana Savignano. Luciana Savignano è molto amata da Federico Sangalli che è un suo grande stimatore. Quando Luciana Savignano toglie le sue scarpette e indossa anche tacchi seducenti, allora Federico ha creato, disegnato e poi fatto produrre per lei una scarpa bellissima e gliela ha consegnato in occasione del recente Mika Scheuver. Ho creato e disegnato per lei questa scarpa che fosse luminosa e ricordasse le stelle luminose del nostro firmamento. Bellissima! Grazie! Vedi, non mi era mai capitato di ricevere un amaggio così. Beh, stupenda, grazie!